Ciao a tutti, benvenuti al nostro canale. Oggi vi aggiorniamo sulle ultime indiscrezioni di Calcio Mercato del Foggia, alla vigilia del precampionato di San Giovanni in Fiore. Allora, il Foggia è pronto a partire per il precampionato San Giovanni in Fiore. Ieri la squadra ha incontrato al campo il FGC, che è stato un momento sicuramente emozionante per tutti. Allora, capitolo difese. Il Foggia ha messo gli occhi su Kevin Caceri, difensore centrale che ha recentemente giocato con la CSA Steaua in Romania. Tuttavia ci sarà da affrontare la concorrenza del team Altamura per assicurarsi le sue prestazioni. Per il centrocampo, invece, uno degli obiettivi principali è Emanuele Gatto, classe 94, recentemente svincolato a Lancona dopo la mancata iscrizione della squadra al prossimo campo di Serie C. Anche Crotone e Pianese sono interessati a Gatto, ma sembra che la pista toscana sia la meno probabile per motivi economici. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, Luca Piana accostato al Foggia dopo che Davide Mondonico ha firmato per il campo passo si sta allontanando dai setanelli. Piana attualmente in forza all'Arzignano va al campo e in procinto è trasferirsi alla Cavese con un accordo biennale, come riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira. Dunque, il calciomercato del Foggia è in piena attività, con molte trattative in corso. Se volete restare aggiornati su tutte le unità e tutte le mosse del Foggia, lasciate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Foggia True Love per supportarci. Commentate qui sotto con le vostre opinioni sui nuovi obiettivi di mercato del Foggia e attivate la campanella per non perdere i nostri prossimi video. Grazie!